Disabili sequestrati in casa alla palazzina comunale di Vianenni a Pescara dopo gli allagamenti dei giorni scorsi e un guasto alla centralina elettrica dell'ascensore. Torniamo ad occuparci della palazzina comunale di Vianenni, occupata esclusivamente da condomini con disabilità. Qualche anno fa avevamo evidenziato una serie di problematiche relative alla mancanza di una manutenzione ordinaria e straordinaria che costringeva i residenti a vivere tra muffa e infiltrazioni. Poco o nulla è cambiato, anzi a complicare la situazione la bomba d'acqua caduta sulla città martedì scorso. Locali allagati e tra le conseguenze un guasto alla centralina elettrica dell'ascensore. Siamo sequestrati in casa come già era successo qualche anno fa. Da premettere che qui ci sono disabili con bombola d'ossigeno, disabili che devono andare a fare terapie e devono andare a fare accertamenti. la spesa, quindi beni primari, essenziali, farmaci. Devo dire onestamente che l'assessore Massimiliano Pignoli, assessore alla disabilità di Pescara, si sta adoperando, ma lui da solo non basta. La situazione del condominio con la bomba d'acqua dimostra che qui, bomba d'acqua, incendio, terremoto, moriamo tutti quanti. Ricordiamo, qui l'ascensore si è guastato, Pignoli vi ha detto che si sta dando a fare, però non prima di 10-15 giorni si risolverà la questione, quindi sostanzialmente per 10-15 giorni non potete uscire di casa. Esattamente, ma il problema non è tanto l'assessore Pignoli, il problema è il tetto che sono tantissimi anni che è bucato dall'ultima grandine che ci fu a Pescara, che non è mai stato ripristinato. Quello è il grande problema principale per l'ascensore, perché non è che si è allagato il garage, si è allagato la centralina dell'ascensore perché l'acqua arriva da sopra. Diciamo che il dottor Polce dovrebbe rivedere un attimino le sue funzioni e tutto ciò che ha fatto per quanto riguarda lo scarico d'acqua. Della vicenda si è occupato anche l'assessore Cremonese, con delega alle politiche della casa, e mercoledì prossimo ci sarà un incontro alla quale parteciperà anche la sindaco Carlo Masci. Qui sono stati stanziati 300.000 euro per un progetto sociale PNR per un appartamento. No, quei soldi vanno presi per ripristinare tutto il condominio.